AHHHH NON ME MAGNATE VIVO Ho fatto lo strillo così Cioè di timpani ancora rotti ragazzi Ebbene sì Mi so comprato code Modern Warfare 3 Perché Ciccio bug mi ha detto Guarda io me lo so comprato Se l'ho trovata a comprare pure te Ci facciamo qualche serie cazzuta O qualche sfida Ho detto Io bro Me lo sono comprato Me lo sono scaricato E ovviamente ci saranno anche video sul mio canale Credo che farò qualche Non scopo Cazzi e mazzi Però prima Qualche partita normale Questo è un video solo Diciamo tra virgolette Illustrico Per farvi capire Da quant'è che non gioco a Modern Warfare 3 Soprattutto Deveva pure il coso del mirino Non so come si fa Cioè tipo Se io prendo il mirino Lo rimane fermo così Poi Un giorno lo leverò Pazza che mira Tania No C'è sta cosa del fatto del mirino Ma tra un po' che mi riabituo Regà Non vi preoccupate Poi quando prenderò l'MSR Lo sblocherò Mi ricordo che camperavo sempre qua Quando c'era Mv3 Ditemi se là la web va bene Perché Se è così Non vedete le munizioni E cazzo e mazzi Però Vedete la mappa e tutto Forse la potrei mettere in altre Ecco aspettate Ecco forse è così Ecco Forse è così va meglio Sapete che vi dico regà Au Quando morimo Se mettiamo al bar Fiamo qualche scoop Scop Poi diremo a voi che Volete che ci faccia Credo che lo perderò Una volta a settimana Così Tutti gli altri video Di Call of Legends Una volta a settimana Coda A meno così tanto Quei variati Questo non mi piace per me Mi ha shuttato E poi regà Perché vedete Se faccio così bene Anche i wix Come posso Vogliono No non posso giocare Con E vedete Non posso fare neanche i wix Comunque No mi rimane là Ok niente E mo ci mi ci dovrei abituare Poi con la testina E cazzo e mazzi Comunque E volevo Avevo pensato anche Avevo pensato anche Di non portare i solo gold Ma di fare Due video a settimana Che ne so Tipo lunedì E giovedì Di uno di gold E l'altro non so Per esempio Di un altro gioco Vabbè Tipo Questo qua è una bomba Che stacca Ehm Ehm Madonna Avevo pensato Comunque un video di gold Sto a far schifare la merda Madonna Ci stanno a sponare Avevo pensato Ehm Vabbè Più lento da niente Oh 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 Di queste ricotte Ero mai rotto il cazzo Comunque Avevo pensato Oh 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 Ehm Un video di gold Ho sennò una serie Che volevo fare su PCSX2 Appunto il moratore della Play 2 Su Jack and Desert O Kia Dark Lineage Poi Ehm La volevo fare però Purtroppo Non riesco a trovare una room decente O il mio moratore fa schifo Quindi Vedremo Se funzionerà O Kingdom Hearts Non lo so Poi decideremo Comunque una volta alla settimana E credo che farò I video di 30 minuti Su code 10 minuti Una partita da notte a settimana E su Che ne so Kingdom Hearts 30 minuti a video Perché sennò Ci mettermo in realtà Ma io fa senza mira Perché sennò U.A.V. Online U.A.V. Online Perfetto Mesh One camping pussy LOL No Che culo Comunque Kingdom Hearts E E Cold Amirò Così per variare da LOL Eppure è una bella cosa No Qua che ne dire Approvvigionamenti in avvicinamento U.A.V. Online Non ce credo Non è morto Mazzare il culo Boom Questo ormai è perso Sperando che non ci facciano L'ultima gear Comunque Fatemi sapere qua sotto Se vi va bene la cosa Due video di Diversi da LOL Poi E poi Cinque video di LOL Che ne so Il 9D e il giovedì Facciamo sta cosa Ammenda Oh Vabbè ragazzi abbiamo perso Comunque Un video di code Che dovete fare Il lunedì In una partita così O poi mettete voi Magari ogni volta Una sfida O non so che Vi fate sapere voi Ed Se no Ci potremmo fare Tranquillamente Il let's play Di un gioco Su PS2 O se no pure Di pokemon Avevo pensato Mi scarico L'emonatore 916 Che schifo Di pokemon Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Vi piace sta serie Mi raccomando Un bel like Si va commentate Non faccio a tutti ragazzi Da cane lupo